va in partenza la quinta affollatissimo miglio per tre anni non vincitori di 2000 euro in carriera all'uno Eragon, due Eliseo DVS, tre Rina Q, quattro El Chapo, cinque Sprit RL, sei Eletro P, in seconda fila, sette Edin dei Daltri, otto Empire Spav, nove Electra Zill, dieci Edo Trio, undici Elkan AS, dodici Easter Cav, terza fila, tredici El Pierre Very Nice, quattordici Elister SSM, quindici Elegante Dan. Giocato Elkan AS numero undici Roberto Vecchione, è lui il favorito nei confronti di Eletro P e Sprit RL. Tostart inizia a prendere velocità, problemi per Erina Q, problemi anche per El Chapo, si parte con veloce Eletro P che va al comando nei confronti di Eliseo DVS, poi e Sprit RL, quindi Eragon a largo Edo Trio. Sbaglia anche El Pierre Very Nice, all'esterno rimane Easter Cav, se ne vanno duecento metri. Numero tredici El Pierre Very Nice, qualificato. Comando Eletro P nei confronti di Eliseo DVS, muove dalla terza posizione in corda e Sprit RL che punta in avanti, trenta e mezzo per i primi quattrocento metri di corsa. All'avanguardia Eletro P di fuori e Sprit RL, lunghi birilli Eliseo DVS, poi Eragon, quindi all'esterno prova ad andare a fare la seconda pariglia, ed in dei daltri, anticipando Elegante Dan, lasciando in corda Easter Cav, poi Edo Trio. Se ne vanno ottocento metri in uno e uno, con l'avanguardia Eletro P di fuori e Sprit RL, in corda Eliseo DVS a precedere Eragon. La seconda pariglia sempre per Edin dei daltri, che precede Elegante Dan, quindi Easter Cav, se ne vanno mille metri in uno, sedici e quattro, veloci per la categoria, e Sprit RL sempre all'argo di Eletro P, in corda c'è Eliseo DVS, quindi Eragon, poi Easter Cav, Edin dei daltri, Elegante Dan, uno trentuno e uno e tre quarti di miglio, in fuga Eletro P da Sprit RL, che all'argo lungo la corda Eliseo DVS, galoppa Eragon, gli altri perdono terreno, a 200 dal palo, Eletro P è in fuga per la vittoria, prova di inseguirla solo Eliseo DVS, Eletra è netta in avanti sui rivali, Eletro P nel finale, vince come vuole, al secondo Eliseo DVS precede E Sprit RL. Trenta e tre a chiudere, uno quindici e mezzo, il raguaglio cronometrico, percorso di testa a tutta velocità di Eletro P, Manuel Pistone, Eddie Moni, i colori della scuderia FB, la vittoria della figlia di Maharaja in percorso di testa, Manuel Pistone in Salchi, netta sul traguardo, al secondo finisce Eliseo DVS, al terzo E Sprit RL. Grazie a tutti, grazie a tutti.